Questo weekend io, Manuel e Samuele siamo nelle Marche, precisamente a Loro Piceno. Vi faccio vedere la vista dal terrazzo, stupendo. Peccato non sia una bellissima giornata oggi, ma molto bello comunque. Stupendo. Bello. Sono d'accordo. Io e Samuele stavamo dicendo che per il terrazzo di casa mia a Milano a me piace tantissimo la vegetazione. Così c'è piuttosto dei fiori, mi piacciono proprio queste piante un po' che sembrano selvagge, disordinate. In realtà poi c'è un suo ordine. Questa sera mangiamo qua. Grazie a tutti.